Salve a tutti amici ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Super Paper Mario. Oggi sfideremo il boss del labirinto dei 100 livelli nella stanza numero 100. Come vedete purtroppo ho dovuto rifare il gioco, ma quel che conta è che adesso siamo qui. Chi va là? Chi è che parla con questa vocione? Ehm, come mai lo schermo si è rimpicciolito così tanto? Oddio, è un coso enorme, sembra il boss del primo mondo. Sarà della sua stessa specie? Gli antichi mi hanno rinchiuso in questo orribile posto, sono il dio della furia, vraccher. Perché mi eri svegliato dal mio dolce oblio? Ti punirò con la morte. Presto capirai cosa vuol dire irritare gli dèi, addirittura, mi fai proprio paura. E in effetti un po' di paura dovrebbe farcela, visto che la sfida non sarà proprio impossibile, ma ardua sicuramente. Allora, quello che dobbiamo fare è praticamente le stesse cose che facevamo contro il boss del primo mondo. Cioè, lui prima di tutto salirà in cielo, si farà il suo bel volettino e poi ritornerà indietro. E noi dovremmo cercare di schivare il suo bel faccione che se ci colpisce sono guai. Quindi facciamo attenzione a non essere colpiti in pieno, ecco, lo schiviamo come vedete. E questa è la prima fase. Poi ci sarà una seconda fase che mi sembra venga da sinistra, ma non vorrei sbagliarmi, sì esatto. Eccolo qua, adesso stavo per essere pure distrutto, quindi molta attenzione. Eccolo che viene da sinistra. Poi l'ultima fase che dovremmo fare con Mario, ovviamente, svoltando in 3D. Lui arriverà così mangiando la terra e facendoci 10 di danno, mi sembra. E eccolo qua, insomma. Noi saliremo con un bel saltino e nessun problema. Adesso, fase 2, fase... ma che fase siamo? La fase 3, giustamente. Siamo sul suo dorso. Fate attenzione a questi mostoi perché sono terribili. Comunque, noi dovremmo colpire la sua antenna. Questi mostoi, come vedete, lanciano queste palline elettriche. Oddio! Sono terribili, va davvero. Ma hanno solo 14 di vita, quindi almeno quello è buono in un certo senso. Quindi noi, con Luigi, perché dovremmo usare lui, potremmo anche usare Manolo e la tecnica che facciamo contro il boss del primo mondo, ma sarebbe un po' meno efficace. Quindi, meglio fare quest'altra con Luigi. Adesso, lui dopo un po' ci ributterà a terra, ovviamente. E da terra noi potremo riorganizzarci. Fare le stesse cose di prima, quindi sempre quella rotazione. Comunque, stiamo andando bene. Per fortuna, questa volta non abbiamo sprecato troppa vita perché le altre due volte in cui sono stato sconfitto, infatti ho dovuto rifare tutto il labirinto dei 100 livelli che è, diciamo, un suicidio. E eccolo qui che passa, vabbè. L'abbiamo schivato e quindi, per fortuna, credo che stavolta dovremmo farcela. Ma, mai dire mai, o meglio, mai dire gatto se non ce l'hai nel sacco, come diceva un allenatore qualche tempo fa. Va bene, adesso svoltiamo in 3D. Ma adesso io non so che se noi ci mettiamo e gli saltiamo proprio vicino al mutuo, già ci ritroviamo subito, subitissimo, lì. Oppure, in qualunque punto gli saltiamo, sempre in mezzo ci troviamo. Boh, non lo so proprio. A me sembra sempre allo stesso punto, ma... Uh! Ah, vedete, quelli... Ti folgorano proprio in pieno, quelle palline elettriche che ti lanciano questi, ah! Mannaggia. Vabbè, almeno ho qualche fungo shake, anzi, super fungo shake, oppure un'altra fungo shake che mi hanno regalato dei nemici. Quindi, almeno su questo sono apposta. Quindi, dobbiamo fare abbastanza attenzione. Comunque, io ho inflitto una grande quantità di danni, quindi credo di potercela fare. Fare davvero benissimo. Adesso, ovviamente, switchiamo con Mario e aspettiamo che il nostro mostriciattolo preferito faccia il suo dovere e venga dalla parte destra. Adesso, scriviamo il suo musone, che è il muflone, stavo dicendo. E, in effetti, un po' la furia del muflone è giusta. Comunque, usiamo, dicevo, quel miele che con la sua dolcezza ci fa recuperare ben 10 PV di vita. Quindi, un'ottima cosa. Sai che mi ha sempre droppato un nemico. Ci danno dei bei regalini, nemici. Adesso, proviamo a saltare un pochino più in su. Così vediamo se ci porta più in alto. Perché, andando più in alto, i nemici appaiono dopo un pochino, quindi... Ah, sì, più andiamo in alto, sì. Ah, no, io pensavo sempre allo stesso punto. Una cosa un po' poco logica, però, vabbè, io pensavo questo. Va bene, adesso colpiamolo con tutte le nostre forze. Concentriamo le nostre energie su quell'antenna. Uaah, sconfitto, sì! Arg, ho perso! Ma non è ancora finita, non sono l'unico mostro creato dagli antichi. Orrori ancora più grandi ti attendono nel labirinto dei cento livelli di svolta di qua. Labirinto cento livelli di svolta di qua. Uaah! Il santo cielo. È rimasto soltanto ossa, neanche pelle, soltanto ossa. Quindi l'abbiamo proprio sconfitto. Adesso ci lasceranno pure un bel regalino, meno male. Un forziere, lo sapevo già da prima questo. E adesso non ci resta che aprirlo, chissà che sorpresa ci riserverà. Brrr! Chi è questo tutto rinfreddolito? Oh, un pixel! Oh, hai sconfitto quel drago enorme, davvero incredibile! E hai anche completato le altre 99 stanze! Wow, non ho parole. Ah, bene. Sono scioccato, sei un fenomeno, ecco. Te lo meriti, clac, 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 clac. E ci batte le mani, bravo, bravo. Nonostante tutto però, devo avvertirti. Su, alletta per ciò che ti aspetta. E che cosa mi aspetta? Ascoltami. Bene, tu devi fare attenzione! Un altro sciroccato si tocca. Devi, devi, devi! Devi assolutamente, assolutamente, devi assolutamente! Voglio dire, non lo pensi anche tu? Sarai di certo d'accordo con me. Ok, affare fatto. Splendido! Il fatto che ci ha fatto incontrare e dunque ti offrirò il mio potere! Bene, ribadisco, è un altro sciroccato, ma che dobbiamo farci? Il fatto, la cosa buona è che scatti, questo pixel ci potrà far muovere a velocità molto elevate. Scatta e schiva, così riuscirai ad affrontare i nemici più tremendi. In questo modo sono sopravvissuto a tante battaglie, affidando il mio potere e fuggendo via. Ah, che brava! E adesso, un tubo si è formato naturalmente. Il tubo che ci riporterà indietro a svolta di là. Affronteremo il labirinto dei 100 livelli di svolta di qua? Se questa è la vostra domanda, la risposta è forse dopo il gioco, ma sicuramente non adesso. Adesso preferisco, insomma, mostrarvi il finale che me lo meritate. Intanto, guardate un pochino il potere di scatti. Davvero carinissimo. A me piace, devo dire, molto utile in alcuni casi. Comunque vi do appuntamento quindi alla prossima volta. Grazie per l'ascolto e alla prossima.